Cassa di c***o Dicci cosa stiamo facendo qua Stiamo recitando Questo è Luca Stiamo provando Quello è Giada Stiamo provando Stiamo facendo le prove perché la cosa migliore per fallire E provare, non andare sul sicuro Oddio Oddio Allora bisogna soffrire La luce Se soffro oggi domani non faccio più le riprese Bisogna soffrire oggi normale Domani triplo DJ triplo Pronta 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 Grazie a tutti. Fai finta di accorgerti che ti sto guardando? C'è proprio realistico di un realistico! Ci sono i boschi senza i rami? Scusate, è solo per sfogarmi. Vedi, non tiene più, perché? Da dov'è che si muove? Quattrocento euro di... Quattrocento euro? No, al monitor quattro cose di 30. Scusate, sì! Luca facci un saluto e dici qualcosa questo va su youtube la neve la neve la neve la neve la neve cade la neve adesso è tutto bianco e sono anche ho avuto il sole in faccia per tre ore che chitarai questa no la mia primissima chitaria ma sei pazzo era 5.50 questa no il problema è che è un po' un accrocchio non mi fa troppo rispettare guardate piano mi raccomando no mi fa troppo rispettare ma ben Grazie a tutti. Grazie a tutti.